come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande il pompiere il calciatore il pasta e cera il poliziotto il pizzaiolo perché voglio costruire la casa dei miei sogni perché mi piace inguaggiare salvo le persone che mi piace e lei è martina che ti piace di lei gli occhi mi piacciono le sue scarpe le sue bali le occhi sui capelli sensibilità sulle capelli tutto sarebbe nella bambina si stanzerei e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 e perché no ok le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare e che è una ragazza che sono contro la violenza si dice anche le donne innanzitutto devono toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori perché sono dalle un bacino e la posso dare sulla bocca o sulla guancia? ciao 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 ciao